Sì, certo. Anche tu puoi avere la tua soddisfazione. Gioca a football americano, vieni a giocare con noi, vieni nella nostra squadra e vedrai che le soddisfazioni non mancheranno. Benvenuti alla quarta puntata di Acome Angels. Oggi i Ranocchi Angels giocheranno la partita delle partite. Contro la Legio 13 Roma si deciderà il primo posto in classifica. A voi la visione. Siamo qui con il ricevitore Matteo Spada. Un ritorno agli Angels, un passato negli Utah, un passato remoto nei Tiny Dance 4 Lee. La sua prima partita, un aiuto per il proseguimento dei playoff per i Ranocchi Angels. Come ti è sembrata la partita? La partita abbiamo fatto un ottimo primo tempo mettendo da parte il risultato. Dopo il secondo tempo siamo un po' calati, abbiamo un po' da lavorare sulla testa, però siamo soddisfatti della vittoria e del primo posto nel girone. La squadra, i giocatori, il coach erano tutti contenti del tuo ritorno e tu gli hai messo una firma con il primo Tasnam. Io faccio quello che mi viene chiesto cercando di farlo al massimo. È un gruppo molto bello, quindi è un piacere farne parte. Quindi andiamo avanti con i playoff. Rock and roll. Luciano Civinelli, cornerback degli Angels, numero 3. Tanti chilometri per allenarsi, tanti chilometri per giocare e oggi come è andata la partita? Oggi è andata molto bene, sono stato di supporto al coach più che altro nel secondo tempo, ma grazie dell'opportunità sempre, come diceva Frank, per tutti i chilometri che si fanno, ma questo sport ha sempre grandi soddisfazioni, sia come lavoro di squadra e dal punto di vista valoriale. Serve davvero il lavoro di tutti per raggiungere dei grandi risultati. Oggi è stata la prova, un gran lavoro dell'attacco nel primo tempo e abbiamo tenuto la partita fino alla fine con un gran risultato, con una bella vittoria. A proposito dei chilometri, vedremo un attimo a fine serata i risultati delle altre squadre. Quindi si va avanti. Go Angels! Siamo con l'head coach, l'head coach Alessandro Angeloni, a lui l'analisi della partita. I ragazzi erano veramente carichi, dopo questi recuperi dell'ultimo minuto anche, gli inserimenti di cui abbiamo beneficiato dei nostri amici di Forlì e Cesena, alla fine i ragazzi erano veramente carichi. Purtroppo tutti questi innesti hanno fatto sì che i meccanismi di gioco fossero un po' meno provati, cioè non abbiamo potuto bene allenarci tutti insieme e quindi abbiamo fatto degli errori. Il primo tempo questi errori sono stati minimi e quindi siamo andati subito molto sopra nel punteggio. Questo però capita che poi ti porti un po' a deconcentrarti e quindi abbiamo permesso un po' nel secondo tempo loro di alzare un po' troppo la testa. Potevamo fare meglio, però comunque sono contento perché i ragazzi sono veramente contenti. Abbiamo riformato un gruppo, quello di Uta, alla fine, con cui ci siamo tanto divertiti insieme. E quindi hanno anche scampato un po', finita un po' la storia dell'alluvione, di cui tanti nostri compagni di squadra da Cesena e da Forlì hanno avuto parecchie noie. Però adesso dai, si vede il sole e quindi il campionato è ancora aperto e noi ci siamo. Sapevamo che dovevamo vincere di almeno otto punti. La squadra ti ha dato subito la forza per vedere insomma un risultato abbastanza favorevole per il cammino del playoff degli Angels. Sì, sì, infatti poco dopo si è capito che gli otto punti non sarebbero stati un problema. Volevamo fare più punti possibili nell'ottica di una classifica con le altre prime, e quindi tra scontri e punti fatti subiti è una buona differenza in modo da avere un posto più alto nel power rank. Però nessuno sa come funziona, quindi è anche difficile. Però abbiamo cercato di fare del nostro meglio fino alla fine. Un calo finale ci sta e quindi sono contento. Sicuri di giocare in casa il 18 giugno, la prima dei playoff, giusto? Io non ci metterei la mano sul fuoco perché le altre squadre dell'altro girone sono tutte a 5-1, sono 2-5-1, quindi potremmo non essere una delle due prime, non lo so, dipende come il power ranking sarà stilato, quindi potremmo giocare o in casa tra due settimane o in casa tra tre settimane. Sarà contento il presidente che cercherà di trovare la giusta ubicazione della squadra. Grazie coach. Siamo qui con il defensive coordinator giocatore Giuseppe Lombi. Allora, Peppe, come hai visto questa partita? La difficoltà anche del meteo, il caldo che c'era, come hai visto i tuoi ragazzi? Parliamo adesso anche della difesa. Soprattutto della difesa. Era una settimana che ci preparavamo a questa partita. I ragazzi hanno giocato con intensità e una buonissima mentalità. Abbiamo provato e riprovato gli schemi, finalmente sono riusciti e quindi sono contentissimo di come hanno giocato i ragazzi. Sicuramente da adesso, anche con i nuovi innesti che abbiamo avuto, potremo solo migliorare. Ho visto una squadra. Il Renauke Angels è veramente costruita bene. Merito di voi coach che durante la settimana vi allenate. Mentalmente, i vostri schemi. Cosa chiedi ai ragazzi? Cosa ha la voglia proprio di andare avanti? Ai ragazzi chiedo ancora più costanza. Più costanza negli allenamenti. Più mentalità per affrontare adesso la sfida dei play-off. Adesso o dentro o fuori. Quindi ora si gioca per arrivare fino in fondo. Allora, in bocca al lupo ai Renauke Angels. Alla grande. Siamo qui con il direttore sportivo della Legio 13 Roma. Un'andata e ritorno per le due squadre. Un'andata vittoriosa, 21-14. E una sconfitta oggi per la Legio contro i Renauke Angels. Ci sta. Va bene. Io oggi la faccio la domanda a Marco Bozzarini. Per quanto riguarda come ha visto la sua Legio e come ha visto la partita. Allora, innanzitutto ciao Franco. Tutto bene? Tutto a posto. Ti credo. Quando si vince è sempre tutto a posto. E come ho visto la mia Legio? La mia Legio l'ho vista che sono dei bravi ragazzi che noi ci siamo presentati con forti assenze. Non avevamo i tre runner titolari, non avevamo due linee titolari. Ma questo non giustifica il fatto che comunque una sconfitta c'è stata. Perché a football si dà sempre il 110%. E quindi posso essere contento del secondo tempo. Dai, il secondo tempo l'abbiamo giocato meglio del primo. Gli arbitri sono stati notevolmente bravi. L'hai notato anche tu? Assolutamente. Io non mi meraviglio. Sono stati bravi, bravi e complimenti a voi. Sei una bella realtà. Power football contro palla in aria. Oggi abbiamo fatto... Assolutamente. Palli contro... Come quell'altra... Allora, io Bozzarini, Marco lo conosco da quando giocavamo in giovanile. Quindi non vi nascondo che l'età passa. E lui è un grande oratore. È giusto che sia così. È una brava persona. È uno che costruisce tanto a Roma. Infatti ricordiamo che la legge ha quante squadre? Under 10, Under 13, Under 15, Under 18. Proveremo a fare la Coppa Italia. Vediamo. La senior e abbiamo quattro ragazzi. Quindi capite lo sviluppo che si può avere a Roma. E quello che magari noi piccoli provinciali possiamo fare. Però andiamo avanti. Ringraziamo tutto quello che abbiamo a livello di istituzioni. E come succedono. E quindi viva il football. Ritorniamo a noi. Non so cosa succederà adesso a livello di play-off. Noi abbiamo Lione Beiges. Ok. Di formigia. Di formigia. E voi avete, credo, Catania. Forse. Se ne saprà stasera. Perché chiaramente stasera Catania ha vinto contro Palermo. Noi abbiamo vinto contro di voi. Di più otto. Quindi sarà una bella lotta. Comunque stasera sapremo tutto. E ricorderemo questa partita come una bella partita. E siamo nel Girone Sud. Ricordiamo come sono i play-off. Ci siamo qualificati noi e voi. Ci sono qualificati poi altri pretoriani e altri. La formazione sono quattro teste di serie più otto squadre. Posso dire una cosa. Quest'anno è la prima volta. Noi ci incontrammo nel 2013 in serie a due. Proprio in questo campo qua. La leggo per la prima volta con un positivo 5-1. Credo che sia dal 2011 che non sia così. Grazie fortunato Maria Roberto Camarda e Stefano Caligiana. Io non ho fatto nulla per migliorare questi ragazzi. Viva la leggo. Vive Aranaki Angels. Vive il football. Vedremo adesso come andremo avanti. Sappiamo che la finale delle finali sarà il 7 luglio. Non si sa ancora dove. E lo sport è salutare. E salutare come salutiamo. A come Angels non si parla solo di football americano ma si parla anche di flag football. Il flag football è una disciplina che a Pesaro c'è e c'è grazie a Cristina. Cristina è un'atleta dei Ranoki Angels. Gioca con la Senior. Con i maschioni gioca perché in serie A2, chiamiamola così, in seconda divisione, il flag si può giocare anche con le ragazze. E di conseguenza la Cri ci dà una grossissima mano. Anzi unica. Perché sarà lei la unica referente per l'inizio del flag football junior. Cri. Parla un po' del flag football junior. Dimmi dove andremo. Insomma, sei libera di fare quello che ti pare. Ok. Praticamente da giugno inizieremo questa nuova scuola. Dal 13 alle 7 di sera fino alle 8 e 30 circa. Ogni martedì al campo caprilino. Per i ragazzi dai 9 anni in su. Volendo. Perché vogliamo a tutti i costi portare a conoscenza di questi giovani atleti. Questo sport meraviglioso di cui si innamoreranno. E nulla. Nulla di più. Vorrei che accorressero sia ragazzi che ragazze. Perché questo sport può essere praticato tranquillamente anche dalle ragazze. Non ha contatto fisico. E quindi è totalmente divertimento puro. Tutto qua. Beh, una cosa che io aggiungerei è che è totalmente gratuito. Assolutamente sì. È completamente gratuito questo corso. Quindi accorrete pure numerosi e numerose. E non sarà un corso di qualche settimana ma cercheremo due mesi di portare avanti questo progetto. Per tutto giugno e tutto luglio. Per tutto giugno e tutto luglio. Esatto. Quindi nel 2028 questa disciplina andrà alle Olimpiadi. Esatto. Quindi è uno stimolo in più per questi ragazzi conoscere questo flag football. Perché come giovanili possono rientrare nelle nazionali. Quindi c'è un campionato... Sì, nell'anno nuovo a gennaio, se non sbaglio a gennaio-febbraio, iniziano i campionati giovanili. Gli under 13, 15 e 17. Quindi è aperto veramente a tantissimi atleti. Migliore occasione per non indossare un casco, ma mettere una cinta con due bandierine, la flag, e non avere il contatto, non avere paura di prendere un placcaggio, ma giocare a flag football. Un divertimento assicurato. Con la CRI. È finita la partita. Era importantissimo vincere e i Ranocchi Angels hanno vinto. Dobbavano vincere di otto punti e i Ranocchi Angels hanno stravinto contro la Leggio 13 di Roma. Era importante perché si decideva il primato del girone. Questo primato adesso è importante perché si potrà giocare in casa i play-off. La prima dovrebbe essere, dovrebbe usare il contesto condizionale perché ancora non si sanno dei risultati dalle siciliane, ma dovrebbe essere il 18 di giugno. State sintonizzati su Rossini TV e Acum Angels, sempre presente, e forza Ranocchi Angels. Grazie a tutti. Grazie a tutti.